Il suo presidente Luca Bizzari, il suo direttore Pietro Dapassano, tutto lo staff che ha curato l'organizzazione, la logistica, la comunicazione, l'ho già detto ma avrei voluto ringraziare persona per persona, nomi e cognomi. Mi è stato detto che si considerano un gruppo e quindi preferiscono che non si faccia riferimento alle persone, si considerano uno staff che lavora collettivamente e però devo dire che è uno staff che lavora con una straordinaria sintonia ma che è fatta tutta da individualità assolutamente al di sopra della media dell'efficienza e della cordialità e della capacità di far sentire a proprio agio ogni ospite. Il dibattito con Vito Mancuso non è la prima volta che noi discutiamo di questi temi. In sostanza, al di là del titolo, quale può essere la religione e la fede di fronte ai risultati, agli accertamenti della scienza contemporanea, nei suoi vari aspetti e in particolare per quello che riguarda la biologia evoluzionistica. Ma non solo. In genere, quando a discutere sono un credente o non credente, si parla di dialogo. In effetti, noi abbiamo intitolato questi incontri dialoghi eretici e dipende da come si intende la parola dialogo, però. Perché molto spesso, purtroppo, la parola dialogo viene intesa come una sorta di rispetto diplomatico fra le persone che discutono. E io credo che questa forma di intendere il dialogo in realtà sia offensiva. Perché trattare con diplomazia un interlocutore significa nascondere i punti veri di divergenza, che sono il sale di una discussione, senza la quale, appunto, c'è il balletto diplomatico, che è un altro tipo di atteggiamento. Dialoghi, quindi, se vogliamo, nel senso in cui all'origine della grande filosofia ha avuto la parola dialogo, come i dialoghi platonici, dove le persone che partecipano ai dialoghi forniscono ciascuno argomento contro argomento, soprattutto mettendo in luce tutto ciò che può essere divergente. Perché solo così, semmai arrivando alle conclusioni, si riuscirà a vedere quanto ci può essere di accordo. Quello che si raggiungerà alla fine del dialogo sarà delle zone, dei momenti di accordo autentici, se non si è avuto paura di mettere nel modo più esplicito tutto ciò che può essere fonte di disaccordo. E allora le due considerazioni da cui vorrei partire sono La prima, la scienza è spietata. La seconda, la religione è consolatoria. La fede è consolatoria. La scienza è spietata perché la scienza ci restituisce le realtà del mondo così come sono, prescindendo dall'effetto che possono avere su di noi. E la storia della scienza, intendendo la scienza moderna, quella che si chiama scienza galileiana, quella che va avanti da Copernico e Galileo in poi, è una scienza che è stata spietata rispetto all'uomo perché lo ha privato sempre più di quello che era, che l'uomo sentiva come la sua dignità, il suo punto di forza, il motivo d'orgoglio. L'uomo si considerava al centro dell'universo. È stato detronizzato dal centro dell'universo. Dapprima non più tutto l'universo che gira attorno alla Terra, ma la Terra, uno dei tanti pianeti che gira intorno al Sole. E quindi tutta la costruzione, per esempio, del Paradiso di Dante e del ruolo cruciale che l'uomo aveva in esso e nel suo rapporto con Dio che viene spazzato via. l'uomo non è più al centro dell'universo. Ma dal punto di vista dell'astronomia e dell'astrofisica questa è solo il primo, la prima delle diminuzioni che l'uomo deve subire. Perché se con Galileo, con Copernico e Galileo l'uomo deve riconoscere che non è più al centro dell'universo, oggi noi addirittura sappiamo di essere praticamente niente nell'universo visto che l'universo è composto di cento miliardi di galassie ciascuna delle quali cento miliardi è composta da cento duecento miliardi di stelle di soli che queste galassie si allontanano l'una dall'altra perché l'universo è in espansione e su uno dei pianeti di uno di questi cento duecento miliardi di soli di una galassia che è una dei cento miliardi delle galassie esistenti ci siamo noi dal punto di vista dell'universo siamo assolutamente niente ma in più la scienza ci toglie ogni ruolo nell'evoluzione dell'universo perché ormai sappiamo perché è nato l'universo proprio in uno degli incontri dell'altro giorno di Micromega il professor Guido Tonelli che era capo di una delle due equip che in parallelo qualche anno fa hanno finalmente visto il bosone di Higgs questa particella fondamentale senza la quale non esisteremmo non esisterebbe l'universo com'è raccontava quello che ormai sappiamo per accertato non più per ipotesi benché molto coerenti ma proprio per accertato che l'universo nasce da una una delle tante infinitesime fluttuazioni quantiche della situazione di vuoto che è la situazione originaria in cui in cui cariche positive cariche negative si equilibriano e quindi danno la situazione è una situazione di di vuoto energie positive energie negative si equilibriano una infinitesima fluttuazione quantica che attraverso un processo che ora è inutile che io racconti perché non lo saprei raccontare nei termini in cui è già stato fatto ma qualcuno di voi forse c'era ha dato luogo al nostro universo se fosse stata un'altra di queste infime fluttuazioni a dar vita all'universo sarebbe stato un universo diverso totalmente diverso dal nostro ma la scienza oggi non è solo la fisica e l'astrofisica che in fondo sono le due scienze con cui nasce la scienza moderna Galileo e Newton la scienza è la biologia evoluzionistica da un secolo e mezzo a questa parte noi sappiamo che la vita sulla terra si evolve non vi è nulla di fisso le specie si trasformano quindi nascono si sviluppano hanno dei periodi magari di egemonia sulla vita della terra e poi scompaiono e anzi questo sarà anche il destino di questa specie stravagante e particolarissima che è Homo sapiens che certamente si estinguerà molto prima di una quantità di specie di insetti per esempio o di altri piccoli mammiferi e di altre specie ora noi di fronte a quello che la scienza ha accertato e via via continua ad accertare possiamo assumere due atteggiamenti prenderla sul serio o pensare sì che c'è la scienza ma non trarne tutte le conseguenze cioè non prenderla sul serio e la spinta a non prenderla sul serio nasce proprio dal fatto che la scienza è spietata ci mette di fronte a delle realtà assolutamente sgradevoli esistenzialmente difficili da tollerare la scienza ci dice che l'universo nasce dal caso e non ha nessun senso non ha nessuno scopo è è avvenuto che la vita sulla terra nasce per caso che le varie fasi dell'evoluzione avvengono per caso uno dei grandi studiosi di biologia evoluzionistica morto alcuni anni fa Stephen Jay Gould che è stato un grande scienziato e un grande divulgatore in uno dei suoi libri che si intitola La vita è meravigliosa analizza in modo dettagliato il perché lo sviluppo l'evoluzione della vita sul pianeta terra avviene per contingenza e in pratica ripropone attraverso un altro approccio quello che uno dei grandi biologi del secolo scorso il premio Nobel Jacques Monod aveva credo nel 1960 o giù di lì già analizzato in un suo libro che non a caso si chiamava Il caso e la necessità tutto ciò che avviene ha una componente di assoluta casualità avrebbe potuto non avvenire e tutto il seguito sarebbe stato diverso Stephen Jaegul dice non possiamo riavvolgere all'indietro la pellicola di ciò che è avvenuto perché è avvenuto quello e non altro ma poteva non avvenire non era un destino che avvenisse quello anzi e se potessimo riavvolgere il nastro nella storia e lo facessimo ripartire il film che ne verrebbe fuori sarebbe un altro film e del resto che sapiens homo sapiens non sia il culmine di questa storia evolutiva ce lo dice non solo il fatto che scomparirà prima di altre specie che continueranno a esistere e a evolvere quando homo sapiens non ci sarà più a meno di non ipotizzare cose fantascientifiche tipo una colonia di sapiens che vivrà su una stella a chissà quanti anni luce di distanza da qui ma anche dal fatto che in realtà l'umanità questa scimmia strana che è l'uomo è comparsa almeno una decina di volte nel corso dell'evoluzione e tutte le volte tranne una si è estinta circa ancora 50-60 mila anni fa esistevano almeno tre contemporaneamente forse quattro specie di esseri umani esseri umani in senso proprio cioè delle post scimmie chiamiamole così che avevano le capacità fondamentali dell'essere umano la capacità di comunicare di comunicare in forma simbolica che avevano delle forme embrionali artistiche e simboliche legate al culto dei morti e quindi a delle forme di vita morale e non più istintiva e così via l'ultima di queste estinzioni è l'estinzione dell'uomo di Neandertal che sulla carta era più forte di noi aveva un cervello più grande del nostro aveva una forza fisica maggiore della nostra e quindi ancora oggi la scienza evolutiva si interroga cominciando ad avere delle ipotesi abbastanza fondate e coerenti ma non ancora definitiva sul perché invece sia stato Homo sapiens a sopravvivere e poi a crescere e moltiplicarsi e dominare la terra e non l'uomo di Neandertal che per alcune caratteristiche sembrava in una competizione per la sopravvivenza più dotato più dotato di noi ecco se prendiamo sul serio l'evoluzione noi sappiamo di essere l'evoluzione di una scimmia o meglio sappiamo di avere in comune con le scimmie più vicine a noi con cui condividiamo quasi tutto il dna tranne una frazione minima degli antenati comuni da questi antenati comuni poi a un certo punto si sono suddivisi due rami e poi altri due rami e dell'ultima ramificazione facciano parte i vari generi di umanità ripeto una decina una dozzina quelli finora scoperti individuati ma le le scoperte che si stanno facendo di reperti fossili aumentano in modo non dico esponenziale ma quasi e quindi staremo a vedere quante altre specie umane verranno scoperte in futuro e dall'altra parte abbiamo per esempio quelli che non sono i nostri progenitori sono i nostri cugini come gli scimpanze e i bonobus i bonobo che invece non hanno avuto una successiva evoluzione che li ha portati a diventare sapiens con le caratteristiche che noi abbiamo ma sappiamo che noi siamo l'evoluzione appunto di delle prescimmie dai nostri antenati comuni e che quindi il nostro altro non è che lo stesso cervello di questi nostri antenati che si è successivamente evoluto e modificato ma che è fatto della stessa materia grigia o materia bianca solo che con lo sviluppo della parte prefrontale abbiamo un numero di connessioni neuronali e di specializzazione di alcune di questi fasci neuronali infinitamente più grande e più articolato che consente al nostro cervello delle prestazioni assolutamente diverse incredibilmente più ricche di quelle dei nostri progenitori con tutte quelle facoltà che un tempo si chiamavano anima ma che oggi sappiamo sono funzioni cerebrali e che come tali scompaiono con la morte cerebrale ecco basterebbe mettere insieme tutte queste cose che noi sappiamo della scienza per trarne se prendiamo davvero sul serio la scienza alcune conseguenze ineludibili non è possibile immaginare nessuna immortalità di ciascuno di noi o meglio è possibile immaginare tutto non è possibile immaginare nessuna immortalità se teniamo fermo quello che sappiamo della scienza con la mancata irrorazione di sangue del nostro cervello per tot minuti scompaiono tutte le funzioni cerebrali compresa quella ancora non chiarita completamente che è la funzione cerebrale riassuntiva di tante altre che chiamiamo coscienza e quindi non ci può essere più nessuna consapevolezza nessuna forma di esistenza dopo la morte questo significa che se prendiamo sul serio la scienza sappiamo che l'aldilà è una bella favola illusoria che ci raccontiamo perché abbiamo bisogno di consolazione ma sappiamo anche che non c'è più nessuna domanda da farsi rispetto a come è nato il mondo non conosciamo ancora i dettagli di quella frazione di secondo che uno alla meno non so quanto che una quantità talmente infinitesima che noi non riusciamo a immaginarla e non riusciamo a immaginarla perché il nostro cervello si è evoluto per metterci in grado di affrontare compiti della sopravvivenza in un universo in cui le dimensioni spaziali e temporali erano di un sono di un certo grado e delle frazioni così infinitesime di tempo appunto non riescono a essere immaginate dal nostro cervello quando noi diciamo attimo intendendo la frazione di tempo minima che siamo in grado di pensare nel momento in cui pensiamo attimo pensiamo comunque a una cifra spaventosamente più grande di quella di quel lasso di tempo di cui ancora noi non sappiamo bene i dettagli e in cui è avvenuta la grande inflazione cosmica ma da lì in avanti praticamente sappiamo tutto quindi non c'è più le tradizionali grandi domande che si faceva la filosofia mettendo in discussione le risposte che si erano date le varie religioni non è più una domanda perché ha le sue risposte così appunto come ha una risposta ormai le domande che ancora Kant si poneva e a cui cercava arrampicandosi sugli specchi della logica di dare una risposta positiva se ci può essere un al di là noi sappiamo che siamo nati per caso in un universo che è quello che è per caso per quel tipo di fluttuazione che avrebbe potuto essere invece di tipo diverso e in cui tutte le tappe della comparsa e dell'evoluzione della vita hanno ad ogni momento degli elementi determinanti fondamentali di casualità di contingenza per cui nato per caso il cosmo che conosciamo nati per caso noi senza scopo il cosmo senza scopo noi con un'esistenza però che per biologia a cui per bisogno biologico noi dobbiamo riuscire a dare uno scopo perché Homo sapiens è riuscito a sopravvivere e a moltiplicarsi a dominare la terra anche in virtù di questo meccanismo per cui per un verso la cogenza degli istinti che regolavano i suoi comportamenti individuali e sociali è venuta meno si è indebolita fortemente e ha dovuto essere sostituita surrogata con delle norme di coesistenza fra gli uomini delle norme che tenevano insieme i gruppi sociali delle norme tali da surrogare con maggiore efficacia perfino quello che era il legame dato dai comportamenti istintuali perché se non ci fossero state delle norme a tenere insieme i gruppi umani questi gruppi non sarebbero sopravvissuti era la loro capacità di coordinamento che consentiva che ha consentito loro di riprodursi e poi a un certo punto di riprodursi in modo enormemente superiore rispetto a quello di altre specie e quindi è l'elemento normativo quello che oggi chiameremmo morale che per millenni indistinguibilmente era il sacro la religione la morale le norme sociali facevano corpo unico la distinzione è una distinzione recente moderna ma insomma la normatività ha tenuto insieme i gruppi di homo sapiens ma la biologia ci dice che sapiens è nato quando nello stesso processo fa tutt'uno col processo per cui si indebolivano gli istinti e nasceva la norma ma quale norma biologicamente non è detta qualsiasi norma purché funzionasse nella riproduzione di quel gruppo umano tant'è vero che se andiamo a vedere la storia di homo sapiens le norme che hanno retto le comunità umane rispetto a temi fondamentali come la nascita il sesso la morte sono le norme più diverse contraddittorie e incompatibili fra loro da questo punto di vista tutte le morali che sono esistite sono morali naturali perché sono forme normative con cui homo sapiens si è riprodotto è possibile che ci siano state forme normative così poco naturali diciamo così da non essere efficaci e che hanno portato subito alla scomparsa di quei gruppi ma quali siano non lo sapremo mai appunto perché non sono arrivate fino a noi non hanno lasciato traccia ma tutte quelle che hanno lasciato traccia sono forme di morale naturale umana perché appunto che vuol dire naturale rispetto a una specie ciò che quella specie manifesta per cui sappiamo che in realtà ogni gruppo umano e nella modernità infine ogni individuo deve riuscire a dare uno scopo che non è scritto nella natura stessa ecco questo è l'insieme della realtà chiamiamola così esistenziale che dobbiamo assumere se vogliamo prendere sul serio la scienza naturalmente non è obbligatorio considerare che la scienza e quello che la scienza ci dice per accertato sia la cosa più importante perché probabilmente la consolazione il bisogno di sentire che la nostra vita ha un senso ma non perché riusciamo a darglielo noi perché quello che proviamo a dare noi è sempre un senso estremamente fragile disposto allo scacco ma l'illusione che un senso ci sia nelle cose stesse e quindi nella storia dell'universo e nella storia dell'umanità e in ciascuna delle nostre storie individuali come parte di tutto questo insieme e tutto questo può essere più importante probabilmente è più importante per la nostra vita individuale ma è in conflitto con quello che sappiamo della scienza per cui o assumiamo fino in fondo la scienza con tutte queste conseguenze e con tutte queste conseguenze riusciamo comunque ad affrontare la realtà e costruire una realtà esistenziale e sociale che non cerca di nascondere a noi stessi la realtà e non si culla quindi in quelle consolazioni che Freud chiamava io credo giustamente illusioni oppure possiamo non sentircela di assumere anche sotto il profilo esistenziale tutte le conseguenze che gli accertamenti scientifici ci pongono in modo ineludibile perché abbiamo bisogno di illusioni in realtà Homo sapiens il cervello di Homo sapiens evolve con la necessità o comunque con il primato dell'animismo ma questo magari sarà una cosa di cui parleremo poi e se non non ce la sentiamo di tener fermi le conseguenze esistenziali degli accertamenti scientifici dobbiamo però sapere che non possiamo pretendere che solo le nostre illusioni siano le illusioni che vengono legittimate una volta che si accettano le illusioni e poi ci saranno altre illusioni perfino più forti perché più consolanti delle nostre illusioni e ci sarà un paradiso che è la consolazione e l'illusione di un al di là che però potrà venire messo in discussione da un paradiso ancora più appagante e ancora più consolante e quindi da forme ulteriori di superstizioni e a quel punto o abbiamo il coraggio di tener fermo la scienza e le sue conseguenze esistenziali o lo vogliamo o no diamo la stura a ogni proliferare di illusioni molte delle quali ahimè come sappiamo hanno poi sul piano pratico dei risvolti per cui la consolazione sul senso della propria vita la si ottiene anche attraverso comportamenti omicidi io ho voluto mettere di solito bisogna concludere con una frase di speranza io invece ho voluto mettere con totale brutalità quelli che sono i problemi dei rapporti fra scienza e fede perché credo che viviamo in un'epoca in cui purtroppo le conseguenze del non prendere fino in fondo anche sul piano esistenziale sul serio ciò che la scienza ci restituisce ormai come realtà accertata ha fatto già fin troppi danni e anzi fin troppi lutti grazie ecco buonasera anch'io comincio con un ringraziamento un ringraziamento a Paolo Flores Tarcais direttore di Micromega per avermi invitato a questo dibattito senza diplomazia come avete visto bene non c'è diplomazia e va bene quella diplomazia come Salamelecchi non interessa neanche a me e grazie a voi della vostra dell'attenzione che mi state che mi state prestando allora il mio intervento che costruisco adesso sulla base ci siamo messi d'accordo così che lui avrebbe cominciato e che io avrei replicato al suo discorso e quindi appunto il mio intervento sarà strutturato in due maniere da prima delle considerazioni di metodo e poi delle considerazioni di contenuto comincerei dalla considerazione diciamo così della frase delle due frasi che poi in realtà costituiscono una frase sola che Paolo Flores Tarcais ci ha proposto all'inizio la scienza è spietata la religione è consolatoria ora per quanto attiene alla religione io potrei dire che non sempre la religione è consolatoria la religione può essere terribile terrificante può creare tanti complessi alle persone con paure spaventi e cose di questo tipo quindi non è detto che la religione sia consolatoria c'è una maniera di vivere la religione che può essere triste opprimente quindi per mettere già in dialettica la prima cosa ma soprattutto vorrei dire che l'affermazione la scienza è spietata che Paolo Flores Tarcais ha messo diciamo così all'inizio del suo intervento è una affermazione non scientifica è una affermazione filosofica dignitosa ha la sua legittimità io non sono d'accordo su questa ma non solo io anche molti scienziati non sarebbero d'accordo nel dire che la scienza è spietata la scienza fa il suo mestiere pone i dati non si interessa della pietas pone i dati poi dipende dall'interpretazione del singolo scienziato e direi dall'interpretazione di qualunque persona retta e consapevole che vuole guardare i dati e vuole capire com'è fatto il mondo ecco dipende poi da questo dare un'interpretazione ci sono scienziati che di fronte ai dati dell'astrofisica di fronte ai dati dell'evoluzione biologica che da Paolo Flores Tarcais vengono interpretati come spietati al contrario questi scienziati per esempio Paul Davis questi scienziati hanno un atteggiamento quasi di meraviglia e parlano di la mente di Dio di una mente cosmica vedono come dire in azione una grande armonia un grande senso un progetto chiamatelo come volete qualcosa che si costruisce qualcosa che si costruisce e quindi che cosa significa questo? significa che noi siamo rimandati anzitutto a quelle che sono secondo me e secondo Kant quindi Kant è molto più importante di me riprendo quelle che sono le tre domande decisive che ogni essere umano deve porre a se stesse e le tre domande che sono elencate in una celebre pagina della critica ragion pura sono che cosa posso sapere che cosa devo fare che cosa mi elecito sperare queste sono le domande degli esseri che secondo Kant e anche secondo me non so secondo voi non so secondo Paolo ma sono le domande che ogni essere umano responsabile deve porre a se stesso la scienza risponde al primo momento che cosa posso sapere ma poi per quanto attiene a che cosa devo fare cioè l'etica e a che cosa posso mi elecito sperare perché c'è proprio il verbo durfen che cosa mi elecito sperare e non risponde più la scienza a questo riguardo entra in gioco un'interpretazione dei dati scientifici che varia è diversa a seconda degli scienziati stessi per esempio Einstein nei confronti del rapporto tra fede e scienza non aveva per niente la visione che abbiamo ascoltato cioè tanto più la fede perdono tanto più la scienza va avanti tanto più la fede deve arretrare e diventare alla fine quella specie di consolazione come dire da catto sostanzialmente di chi non vuole guardare in faccia le cose va bene cioè una consolazione da bambino viziato dice questo è il mondo guarda che è così e lui invece no e lui invece non vuole vedere fino in fondo le cose Einstein non la pensava così nel 1941 in una conferenza a Princeton affermava la religione senza la scienza è cieca la scienza senza la religione è zoppa facendo vedere cioè che il compito di dare luce alla mente per quanto attiene come stanno le cose nel mondo certo che è della scienza ma poi una volta che hai saputo come sono le cose del mondo tu devi capire come agire nel mondo perché quel male che le religioni possono fare a cui lui alludeva alla fine è perché la scienza non lo può fare questo male non si può usare l'energia atomica in un certo modo o in un altro per esempio e allora come capisci che devi usare le informazioni scientifiche in un modo piuttosto per l'altro sulla base di cosa e qui entra in gioco il sentimento vitale entra in gioco l'etica sulla base di cosa costruiamo l'etica e poi entra in gioco la terza domanda che cosa mi è lecito sperare ma certo per qualcuno come per esempio per Paolo Florester Kai se non c'è nessuna speranza c'è disperazione disperazione ma per altri scienziati io prima cercavo una frase di Schrödinger che ho trovato premio Nobel per la fisica per altri scienziati ciò che la scienza ci dice adesso oggi non è fonte di disperazione nel 1956 sono passati un po' di anni ma mica tanti insomma Schrödinger nelle sue lezioni sulla vita conclude queste lezioni dicendo pur riconoscendo debitamente il fatto che la teoria fisica è in ogni tempo relativa in quanto dipende da certe ipotesi fondamentali noi possiamo credo asserire che la teoria fisica nel suo stato presente suggerisce energicamente l'idea della indistruttibilità dello spirito per opera del tempo indistruttibilità dello spirito non lo dice padre Pio con tutto il rispetto di padre Pio non lo dice un uomo di scienza che interpreta i dati scientifici in una maniera diversa rispetto a un altro uomo di scienza la vita è nata per caso o la vita doveva nascere abbiamo sentito che è nato per caso ed è stato citato il libro celebre classico di Jacques Monod il caso e la necessità qualche anno dopo Jacques Monod premio Nobel per la medicina qualche anno dopo un altro premio Nobel per la medicina uno dei più grandi esperti mondiali della cellula ed è per quello che a lui venne assegnato il primo Nobel per la medicina si chiamava Christian de Duve scrive un libro dal titolo Polvere Vitale e in questo libro de Duve sostiene scrivendo dichiaratamente esplicitamente contro Monod che la materia originaria dell'universo era vitale vital dust è il titolo originario vital dust il sottotitolo che l'edizione italiana della Longanesi non ha e io non so per quale motivo forse non so forse appunto pensavo magari ci hai fatto tu qualcosa è the life as cosmic imperative la vita come imperativo cosmico cioè abbiamo un premio Nobel per la medicina uno scienziato uno studioso della cellula che conosce bene i dati li conosceva benissimo quanto Monod altrimenti non gli avrebbero dato il premio Nobel che sugli stessi dati dà un'interpretazione opposta per il primo la vita è sorta per caso è un incidente per quell'altro è sorta perché l'universo è un laboratorio un laboratorio ed è fertile un universo fertile bio amichevole e secondo questa prospettiva l'universo con tutti questi miliardi e miliardi di galassie con miliardi e miliardi di stelle e quindi con miliardi e miliardi di pianeti di esopianeti l'universo contiene sicuramente secondo questa visione altre forme di vita ma scusate noi veramente è spietata la scienza sì secondo la tua filosofia della natura è spietata ma se noi consideriamo è la nostra comparsa qui se noi consideriamo il lavoro dell'universo se noi consideriamo l'esplosione originaria o la fluttuazione originaria io con Tonelli tra l'altro era tre settimane fa che a Palermo ho fatto un pubblico dibattito su cose di questo tipo quindi conosco bene che cosa sostiene anche se non l'ho sentito recentemente non l'ho sentito qui a Genova ebbene fluttuazione fluttuazione del cosmo esplosione diffusione degli elementi dei primi elementi e poi e poi l'aggregazione di questi primi elementi a formare le prime stelle esplosione delle stelle di prima generazione formazione di elementi più pesanti e aggregazione di questi elementi più pesanti a formare altre stelle le quali esplodono di nuovo stelle di terza generazione che esplodono e ancora diffusione di elementi ancora più pesanti e queste polveri oltre a formare le stelle formano i pianeti e su un pianeta da dove viene la vita sul pianeta Terra sul nostro piccolo pianeta blu nessuno lo sa ancora ci sono diverse teorie ma una cosa sappiamo che la vita viene per quella medesima logica di aggregazione che ha fatto nascere le stelle di prima di seconda di terza generazione che ha fatto nascere i pianeti la logica di aggregazione tra gli elementi decisivi per così dire senza per così dire tra gli elementi strutturalmente necessari per il darsi della vita che sono gli acidi nucleici le proteine gli zuccheri e i grassi perché tu abbia un composto che qui non è vivente e qui diventa vivente questo passaggio incredibile dalla materia inanimata alla materia animata che vive che pulsa perché tu possa avere questo passaggio devi avere questi quattro composti biochimici che si armonizzano tra loro che si aggregano quindi la nascita della vita è la medesima che ha portato alla nascita delle stelle tra cui il nostro sole la medesima logica che ha portato alla nascita del nostro pianeta cioè l'aggregazione la relazione armoniosa che non è stabile perché non c'è niente di stabile quindi poi hai aggregazione e hai esplosione certo e anche noi finiremo certo anche le religioni lo sanno secondo la Torah questo è l'ennesimo universo che secondo la Torah orale secondo il Talmud quindi l'ebraismo lo sa il buddismo lo stesso lo sa benissimo di quanti universi sono stati scompari e il cristianesimo a suo modo parla di una fine cruenta delle cose una fine quindi si sa tutto questo non è che sono quello che vorrei dire comunque proprio a livello già dal metodo sono passato già i contenuti torno al metodo sul discorso veramente del metodo fede e scienza sentite cosa diceva Einstein sempre lui nel libro Il mondo come io lo vedo pagina 180 perché ci sono tante come si dice citazioni apocrife di Albert Einstein quindi occorre andarci cauti lui e citare da dove vengono le cose lui diceva ritengo che il sentimento religioso cosmico sia il più forte e nobile incitamento alla ricerca scientifica da dove viene la domanda che ti pone che ti porta a studiare che ti porta a ricercare da dove viene ah naturale per qualcuno viene da una non per nulla per niente dalla religione va bene ma per uno dei più grandi fisici di tutti i tempi e altri se ne potrebbero citare come Heisenberg come Planck come Schrödinger che ho detto come Pauli tutte persone che hanno fatto della ricerca scientifica una compagnia della dimensione spirituale e se hanno fatto grande ricerca scientifica è perché erano abitati da una grande domanda spirituale leggete il libro di Heisenberg il padre del principio di indeterminazione fisica e oltre è ricolmo di saggezza spirituale e quindi cosa sto dicendo sto dicendo che non c'è questa inimicizia strutturale che è stata sostenuta prima tra religione spiritualità e scienza sì per qualcuno ci può essere ma è una filosofia precisa ma in sé i due fenomeni non sono strutturalmente nemici se fosse così come è stato sostenuto noi dovremmo avere che tutti gli scienziati dovrebbero essere atei oppure dire che quelli che non sono atei sono persone che non sanno ragionare perché non sanno mettere insieme i dati che ci sono stati proposti la vita che viene dal caso non sono capaci di trarre le conseguenze sono consolatori sapete chi dirige il Cerno di Ginevra sì al Cerno di Ginevra fa parte Guido Tonelli che è una persona di una profonda spiritualità per quanto agnostico se non ateo chiaro ma con un forte sentire spirituale perché non bisogna necessariamente essere religiosi per avere una spiritualità questo è evidente lo sostengo da tempo nei miei libri ma il Cerno di Ginevra come tutti voi sapete viene diretto da Fabiola Gianotti che invece si professa credente e a proposito di evoluzione e di evoluzionismo una delle biologhe più note d'Italia che è Elena Cattani o anche senatrice a vita è un'altra che professa una fede religiosa cristiana e altri nomi li ho fatti prima di grandi studiosi che hanno un atteggiamento positivo nei confronti della religione vuoi la religione plotiniana spinoziana di Einstein che credeva alla natura come armonia Deus Sive Natura credeva profondamente alla natura come armonia e fu questa sua fede nell'armonia che lo portò a unificare la meccanica newtoniana con l'elettromagnetismo di Maxwell e aggiungere la teoria della relatività 1905 1915 fu questa fede nell'unità del tutto ma altri sono giunti a risultati altrettanto importanti forse a partire da altro io non sto non sto dicendo non sto dicendo che o sei religioso non fai buona scienza sono lontanissimo dal dire questo sto dicendo che non c'è inimicizia strutturale e quindi puoi continuare tranquillamente ad accettare tutti i dati che la scienza ti dà e continuare a credere in Dio certo in una maniera come dire diversa probabilmente rispetto a come si credeva cento anni fa duecento anni fa io personalmente per esempio ho abbandonato da tempo l'idea della perfezione iniziale l'idea di una genesi dove tutto è già stato costruito l'idea dell'anima che viene infusa da Dio ho fatto le mie cose ma adesso non devo parlare di me ho scritto qualche libro al riguardo ma bisogna cambiare perché c'è un magistero della scienza che va accolto e non puoi continuare per esempio a ritenere come ritiene la dogmatica tradizionale che la morte è entrata nel mondo a seguito del peccato dell'uomo è ridicolo questa cosa che è scritta nel catechismo fa ridere perché la morte è entrata nel mondo a partire dall'inizio della vita quindi quasi 4 miliardi di anni fa 3.75 secondo i dati che conosco io quelli diciamo ma diciamo pure quasi 4 miliardi di anni è da quando c'è la vita che c'è la morte ovvio quindi come si fa a sostenere secondo la teoria del peccato originale secondo cui invece la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo è chiaro che la religione deve camminare deve evolvere deve rivedere se non la fa sbaglia diventa superstizione diventa e diventa tutte quelle cose che abbiamo detto però che ha detto Paolo Florester Arcai sei su quelle quali sono d'accordo figuriamoci cosa ho a che fare io col fondamentalismo con la violenza è evidente che tutto questo va bandito però vedete chi siamo noi questo è il punto decisivo il contenuto vero è chi siamo noi ci si può ritenere una scimmia una scimmia nuda va bene io non penso che l'uomo sia assimilabile a una scimmia nuda io penso che ci sia una differenza specifica dell'essere umano dicendo differenza specifica mi viene in mente un saggio di Hans Jonas un grande filosofo l'autore del principio responsabilità che parlava proprio di differenze a desmension e perché ne parlava a proposito dell'arte quando l'uomo ha iniziato a porre in atto dei segni diciamo così biologicamente non necessitanti non necessari ecco che lì è nata è emerso qualcosa di nuovo io credo profondamente a questo senso di un processo che si fa proprio veramente all'emergentismo da dove è nata il passaggio fondamentale dell'evoluzione sto andando un po' così mi rendo conto che non sono ordinatissimo ma abbiate un po' di ma il passaggio fondamentale dell'evoluzione dice per esempio Carl Weese oppure anche Lynn Margulis sostengono che il passaggio fondamentale dell'evoluzione non si deve a un processo di selezione naturale a un processo di lotta ma si deve a quella stessa logica che ha portato alla costruzione del sole alla costruzione delle stelle cioè all'armonia il passaggio fondamentale dell'evoluzione della vita sulla terra è il passaggio che si ebbe circa due miliardi di anni fa dalle cellule procariote senza nucleo alle cellule eucariote alle cellule con nucleo e c'è l'evidenza scientifica ho fatto i nomi dei due scienziati che sono mondialmente conosciuti per questo che questo passaggio decisivo che ha portato appunto ad avere la vita strutturata secondo la cellula eucariota si ebbe mediante un processo di simbiosi 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 è lo stesso processo l'aggregazione che ha portato all'origine anche noi quando nostro padre si è aggregato con nostra madre e quando noi ci siamo aggregati con le nostre mogli o i nostri mariti a dare origine al figlio e ai nostri figli non è vero che non c'è un senso nelle cose secondo me è la mia filosofia chiaro sto parlando di questo senso ma sto ragionando sto proponendo queste cose anche con una serie di argomenti ecco questo senso che c'è iscritta nelle cose è l'armonia la relazione non è un'armonia gratis dicendo armonia io ho scritto un libro sull'handicap sulle malattie genetiche e ancora l'altro giorno ero a Padova a parlare a un convegno di neurochirurgia familiare e ad affrontare tutta una serie di fantasmi e di idee sbagliate che le dottrine religiose mi mettono nella testa del dolore colpevole di tutte queste cose conosco conosco profondamente il dramma la tragedia il non senso che può accompagnare le vite certo ma questo non significa che sia secondo me che sia insensato il nostro essere qui non lo penso proprio questo senso è l'armonia e più noi siamo in grado dentro di noi e fuori di noi di avere armonia di generare armonia più la nostra vita fiorisce perché l'armonia non è nient'altro che quella legge di aggregazione sistemica di assemblaggio di aggregazione sistemica che è alla base dell'essere della natura io penso di aver detto il grosso ho sostenuto faccio un riassunto a livello di metodo ho sostenuto che fede e scienza non sono strutturalmente nemiche ma il lavoro ma il lavoro di una si può integrare con il lavoro dell'altra di sicuro la religione la spiritualità la filosofia diciamo così la dimensione umanistica che devono guardare alla scienza non possono fare esprimere le loro proposizioni le loro affermazioni senza ascoltare la dimensione scientifica però dalla frase di Einstein che vi ho letto quella di come io vedo il mondo quando parla del sentimento cosmico-religioso come la più forte spinta alla ricerca scientifica è vero anche il contrario per alcuni scienziati quindi c'è effettivamente un'integrazione reciproca tra le due discipline questo ho sostenuto e ho anche detto appunto che ci sono scienziati che conoscono perfettamente la scienza e vedi De Duve che la pensa al contrario di Monod vedi la Gianotti che la pensa al contrario di Tonelli e ho fatto altri nomi tra l'altro mi sono dimenticato di citare Ugo Maldi che conosco personalmente mi sono dimenticato di citare Nicola Cabibbo insomma grandi fisici Elena Cattani l'ho citata insomma scienziati che hanno nei confronti diciamo così della dimensione religiosa un atteggiamento di amicizia e di armonia e poi per quanto riguarda i contenuti io ho sostenuto che non è vero che non esista che secondo me che non esiste un senso nelle cose che siamo al cospetto di qualcosa di assurdo che la vicenda cosmica sia assurda non è una passeggiata il mondo c'è tanto dolore nel mondo le religioni lo sanno benissimo pensate alla prima nobile verità del buddismo Ducca c'è tantissimo dolore c'è tantissima sofferenza il senso delle religioni è quello di dire questa sofferenza può essere vinta e ciascuno lo dice a suo modo ciascuno lo dice a suo modo certo però io penso che sia utile che abbia un senso anche solo dal punto di vista evolutivo la presenza delle religioni perché è una cosa seria il dolore la sofferenza e la pietas di cui noi umani abbiamo bisogno è molto importante non abbiamo bisogno di spietatezza io non penso proprio non abbiamo bisogno di spietatezza io penso che abbiamo bisogno di pietas di riverenza di attenzione di armonia abbiamo bisogno di rivivere dentro di noi quella medesima logica che ha portato il nostro mondo all'esistenza che è la legge dell'assemblaggio lo ripeto dell'aggregazione e più noi siamo al cospetto di questa legge più la vediamo più la la pratichiamo e più la nostra vita e la nostra esistenza di noi come specie di noi come singoli fiorisce grazie la parola è ora a voi con una serie di interventi brevi per dare spazio anche agli altri abbiamo un microfono quindi chi vuole intervenire per favore cominciamo a farlo subito senza timidezze perché sono sicuramente tante le persone qui che hanno delle cose da dire e poi concluderemo con due brevi interventi la domanda è rivolta al direttore di Micromega mi chiedevo per quale ragione la specie umana è destinata all'estinzione ovvero se questo è basato sull'osservazione diciamo di dati ovvero del fatto che altre specie sono istinte oppure se ci sono diciamo dei meccanismi biologici alla base di questo e buonasera vedo una platia stanca non mi sembra proprio sa perché in prima fila lei non vede bene no no mi son mi son girato prima di intervenire e da un po' di tempo che la gente è un po' stanca il dialogo è molto prolisso da ambo le parti vi è un dualismo estremo i vostri visi sono inguardabili durante il vostro dialogo cosiddetto dialogo pertanto ritengo che di umano non vi è nulla sarebbe bene che vi che riusciste un giorno l'altro a sopravvivere con il buonsenso e con il normale contatto umano vicendevole grazie grazie a lei ecco ci sono almeno tre mani che si sono alzate in quella zona lì anche quattro alcuni evidentemente non sono stanchi sì sì buonasera io la fede o ce l'ha o non ce l'ha e per me con tutti i debatti io non ce l'ho e è molto interessante tutto ma non so come si può esplicare se o ce l'ha o non ce l'ha la fede una domanda diretta al professor Mancuso ha detto che c'è integrazione fra le due discipline cioè tra la fede e la religione ma a questi scusate la fede e la scienza però a livello di metodo in realtà mi sembra che lei non abbia portato poi delle spiegazioni perché si è soffermato sul fatto che gli scienziati possono essere più o meno credenti ma questa è una scelta individuale non è un discorso legato al dialogo fra la scienza e la religione grazie c'erano ecco alcune persone su questo settore qui che se no lì in fondo mi collegavo a quanto diceva il professor Mancuso sul dolore l'enorme quantità di dolore dell'umanità che è un'evidenza diciamo quotidiana dolore malessere ingiustizia eccetera ecco io mi chiedo come tutto questo si possa conciliare con l'idea cristiana di un Dio buono che ci vuole tanto bene c'è lì in fondo questo signore sta fin dall'inizio si è parlato di armonia ora vorrei sapere qual è l'armonia che ha fatto evolvere per milioni di anni i dinosauri per poi farli sparire qual è l'armonia che ha creato migliaia e migliaia di malattie da quelle più diffuse come erano una volta ad esempio la peste nera a quelle meno diffuse che vengono chiamate malattie rare che possono riguardare su tutto il pianeta soltanto alcune diecine di persone questa cos'è armonia o casualità della natura grazie ora un'ultima un'ultima domanda sì io credo che un punto essenziale sia quello di chiederci una volta che abbiamo risalito tutta la catena evolutiva ma perché questa energia incredibile perché questa partenza e qui è difficile dire che la materia in quanto tale spiega a se stessa e qui la domanda inevitabile forse bisogna fare un salto cioè un salto perché un qualche cosa che è superiore alla materia possa dare una spiegazione perché la materia in sé come si fa a spiegare in tutta questa sua potenza incredibile la signora qui e poi dobbiamo purtroppo c'è stato chiesto gentilmente ma fermamente di chiudere alle sette e mezza per cui io chiedevo ma se tutto è nato per caso sia il cosmo e sia noi perché allora abbiamo dentro di noi nella nostra mente diciamo nel nostro spirito abbiamo sempre queste domande quelle di cui Don Mancuso parlava all'inizio cioè queste domande sullo scopo della nostra vita domande che solo noi Homo Sapiens abbiamo le abbiamo sin dalle origini e ricerchiamo sempre quindi questo senso della vita ricerchiamo sempre questa serenità in fondo del nostro spirito della nostra anima se esiste noi continuiamo a ricercarla non ci accontentiamo di guardare di vivere normalmente guardando i dati come sono mentre gli altri diciamo esseri della natura non si pongono queste domande grazie allora abbiamo una decina di minuti ciascuno e ovviamente sappiamo che ci sarebbe da sviluppare questi discorsi per molto molto cominciò io Paolo così chiudi tu no è giusto che chiudi tu che hai l'ultima parola e se no sono troppo avvantaggiato voglio togliere alcuni equivoci dire che la scienza è spietata ha un senso credo nell'ambito del mio discorso abbastanza chiaro e cioè che la scienza ci ha tolto molte illusioni solo in questo senso è spietata perché in effetti poi la scienza non è un'entità dotata di una volontà e del di una volontà di fare del bene o del male la scienza cerca di raccontarci la realtà così com'è i meccanismi della realtà così come sono e poi sta a noi dare o non dare un senso a quello che sappiamo ma ho voluto fare questa contrapposizione sapendo che fondamentalmente il nostro cervello è fatto per avere più bisogno di consolazione che non di sapere il nostro cervello è un cervello fondamentalmente animista non illuminista e quindi chi diciamo vuole evitare di trovare nella realtà motivi di incoraggiamento di fiducia eccetera ma sa che quelli se li deve dare da soli perché nella realtà non ci sono inevitabilmente parte svantaggiato perché il nostro cervello è fatto per ragionare e sentire nell'altro modo perché è animista il discorso sarebbe abbastanza complesso e c'è un bellissimo piccolo libro di Telmo Pievani e altri due autori ora in questo momento c'è un'amnesia che si chiama Nati per credere che spiegano proprio in termini darwiniani il problema io una volta ho cercato di riassumerlo in termini molto molto schematici ma domandando a un grande fisico e biologo come Boncinelli se raccontarla così aveva un senso o la schematizzazione lo faceva diventare una burletta mi ha detto che in effetti funzionava per cui io ve la do questa spiegazione perché il nostro cervello evolve in modo animistico cioè è spontaneamente noi siamo spontaneamente animisti cioè cerchiamo di vedere in ogni realtà anche fisica piccolo o grande compresa la totalità del cosmo una volontà un'intenzionalità un'anima perché se immaginiamo due tribù ai primordi di Homo sapiens una tribù animista e una tribù illuminista la tribù animista i componenti della tribù animista dietro ogni rumore immaginano che ci sia un qualche pericolo una qualche entità che li può minacciare la tribù illuminista ha preso atto che 99 volte su 100 dietro un rumore c'è semplicemente che è caduto un ramo secco che c'è stato un colpo di vento che un sasser rotolato e così via perché in effetti è così quindi diciamo che la spiegazione illuminista è molto più aderente alla realtà delle cose il risultato però è che l'appartenente alla tribù animista immaginando dietro ogni rumore un'entità vitale animata che può minacciarti farà ad ogni rumore un'attenzione spasmodica pensando che ci possa essere un'aggressione in vista il componente della tribù illuminista no perché penserà che non è successo nulla il che significa che la tribù illuminista poiché ogni tanto c'è invece un giaguaro che ha fatto rumore calpestando un ramo che rapidamente la tribù illuminista si estinguerà mentre la tribù animista si svilupperà ecco noi il nostro cervello è evoluto in modo animistico per questo naturalmente il cervello di Homo sapiens ha una plasticità che i cervelli delle scimmie precedenti non avevano per cui poi è riuscito anche a diventare illuminista a dar luogo alla scienza a mettere in discussione il fatto che dietro ogni oggetto ogni entità ci sia un ente con una volontà ma se voi provate a farci caso istintivamente a ciascuno di noi quando c'è anche un un aggeggio della cucina che improvvisamente non funziona ci viene da incazzarci con quelle cioè ma perché non funziona cioè è istintivo l'attribuire intenzionalità a tutte le cose e più che mai quindi attribuire intenzionalità all'insieme delle cose quella che chiamiamo la totalità l'universo il il cosmo ecco il fatto che ci siano degli scienziati e non importa che siano una minoranza perché sono una minoranza la maggior parte tutte le indagini dicono che una schiacciante maggioranza di scienziati è atea ma questo non vuol dire che ci siano molti scienziati credenti non ci dice nulla di per sé sul rapporto fra fede e scienza ci dice qualcosa sulla psicologia di quegli scienziati nulla di più e anche perché non è detto che coloro che hanno fede abbiano il tipo di fede di cui parlava Mancuso e che Mancuso proclama spiega e vive e spiega nei suoi libri ma potrebbero essere anche delle persone che hanno una fede religiosa molto più tradizionale e che magari credono che il male nel mondo è nato dal peccato e ciò nonostante se fanno una grande scoperta scientifica sono degli ottimi scienziati se riescono diciamo a vivere in modo separato queste due cose per cui quando entrano in laboratorio non ragionano in termini di peccato ma ragionano in termini di ipotesi e verifiche empiriche ripeto questo non ci dice nulla sul rapporto filosofico fra fede e scienza che cerchiamo di indagare e su cui siamo in profondo disaccordo ci dice qualcosa sulla psicologia di quello scienziato così come il fatto che per uno scienziato una forma di spiritualità l'idea di questa totalità spirituale del cosmo di cui parla Einstein in molte in più di una pagina in modo anche molto lirico questo senso cosmico possa aver spinto una persona a un'intuizione che poi è saputo sviluppare in una delle teorie più feconde e ormai più controllate della scienza moderna e contemporanea di per sé non dice nulla dice semplicemente che nella psicologia di ciascuno di noi le motivazioni per cui possiamo fare delle scoperte sono le più diverse e casuali Newton era uno non solo era credente ma credeva anche in tutta una serie di forme di occultismo che le religioni tradizionali considerano le peggiori superstizioni eppure era Newton cioè è all'origine della scienza moderna quindi i casi individuali non ci dicono nulla sul problema filosofico sul problema filosofico ci dicono invece molto alcune evidenze scientifiche accertate e l'uso della logica e per esempio quello di dire che in diversi momenti della vita del cosmo e poi dell'evoluzione della vita e poi dei vari passaggi nell'evoluzione della vita sono all'opera sempre lo stesso meccanismo che è quello della aggregazione della simbiosi questo sì è un fondamentale errore filosofico perché attribuisce una caratteristica in comune a vari processi ma una caratteristica generica che perde la specificità dei vari processi e che è tipica anche questa proprio della nostra tendenza all'animismo il più grande animista della storia del pensiero è Hegel il quale immagina la totalità della realtà esattamente come lo svolgersi dello spirito nel nel suo dispiegarsi nel tempo e nello spazio nel suo riappropriarsi alla fine in consapevolezza di tutto l'intero processo attraverso una serie di svolgimenti che procedono come tutti sappiamo per triadi dialettiche il che porta per esempio Hegel a dire che un evento cosmico o un evento naturale come il passaggio dal seme al fiore al frutto o un evento sociale come il passaggio dalla famiglia dalla società civile allo Stato e potrei moltiplicare tutti questi esempi tutte realtà che hanno ciascuna un loro meccanismo specifico ce le rappresenta tutte come avendo in comune la triade tesi antitesi e sintesi ora noi ritroviamo tesi antitesi e sintesi in tutti questi meccanismi se anche fosse vero che in tutti questi meccanismi ci sono questi tre momenti non avrebbe nessun senso dire che la realtà procede per triade dialettica perché ognuno di queste triade dialettica avrebbe una natura intrinsecamente specifica e profondamente diversa per cui l'aggregarsi dei primi vapori cosmici chiamiamoli così dei primi gas in soli è un processo di aggregazione che in comune con il processo di aggregazione della vita e poi il processo di aggregazione che consiste nella nostra nascita da due genitori che si fecondano facendo l'amore hanno solo il nome di aggregazione in comune ma sono processi che non hanno nulla in comune l'uno con l'altro e che vanno studiati nella loro peculiarità le cose da dire sarebbero tantissime e io non voglio e non posso abusare del tempo che i nostri gentilissimi ospiti ci hanno dato e faccio l'ultimo esempio proprio in una delle conferenze di questi giorni ci veniva spiegato come in realtà la riproduzione unicellulare assessuata domina per un lunghissimo periodo e la riproduzione sessuata nell'ambito della vita invece rappresenta una quota minoritaria della storia della vita su questa terra abbastanza recente e che ha dei vantaggi enormi perché moltiplica le differenze e la variabilità e quindi la possibilità per una specie di reggere di fronte a mutamenti improvvisi dell'habitat ma chi ci spiegava questo diceva che ci spiegava che in realtà la riproduzione non sessuata avrebbe potuto continuare in via indeterminata non c'era nulla nella cosa stessa che implicasse che prima o poi sarebbe nata la riproduzione sessuata nulla è nato per caso ora naturalmente noi possiamo dire siccome che però una cosa così bella dobbiamo immaginare qualcosa che ci fosse dentro naturalmente l'immaginazione è libera ma la scienza non ha assolutamente bisogno di questo elemento di immaginazione ci dice per quello che sono gli accertamenti scientifici che avrebbe potuto continuare così fino ad oggi quindi noi non ci saremmo a discuterne e che per un evento casuale è invece avvenuto qualcosa di diverso e che l'elemento casuale si è si è avuto e si continua ad avere costantemente ora il fatto che a qualche grande scienziato questo sembra che gli faccia mancare qualcosa gli sembra che la ricchezza la straordinaria differenziazione della vita debba avere qualche cosa dentro diciamo può essere facilmente controbilanciata dall'obiezione che qualcuno faceva ma è tutta l'inutilità tutto lo spreco che c'è nell'evoluzione tutto il dolore tutta la sofferenza che c'è nell'evoluzione tutte le estinzioni che ci sono nell'evoluzione ecco quindi la scienza non ci dice nulla rispetto a questa specie di intenzionalità che dovrebbe animare il cosmo anzi tutto quello che ci dice è che è qualcosa che ci mettiamo noi perché è un nostro bisogno ora l'ultima signora che intervenuta diceva ma noi abbiamo questo bisogno di senso quindi ci deve essere un senso nella realtà purtroppo la risposta è molto semplice se davvero ogni nostro bisogno che abbiamo dovesse avere una rispondenza nella realtà vivremmo in un mondo completamente diverso da quello in cui viviamo il nostro bisogno non è indicativo di nessuna realtà solo di un bisogno e i nostri bisogni molto spesso sono inappagati e inappagabili il nostro bisogno di senso non è inappagabile si tratta di prendere atto che il senso nella vita individuale e sociale ce lo dobbiamo mettere noi con le nostre scelte individuali e associate con quello che è appunto l'etica e la politica ne siamo responsabili non possiamo scaricarci di questa responsabilità pensando che il senso della realtà sia già nelle cose grazie vedi Paolo lo statuto della mente di fronte alla realtà secondo me è quella di vedere molteplici sensi tu sei a mio avviso fondamentalmente dogmatico direi perché ti poni perché utilizzi i dati scientifici solamente in un'unica prospettiva da quei dati scientifici fai emergere l'assenza assoluta di di un senso appunto poni tutto all'insieme del caso allora siccome tu mi hai convocato qui ragionando su Darwin ti cito una lettera di Darwin del 12 luglio 1974 a Joseph Dalton Hooker che dice così la mia teologia è una confusione bella e buona non riesco a considerare l'universo come il risultato del cieco caso e d'altra parte nei dettagli non riesco nemmeno a trovare prova alcuna di un disegno benevolo né in effetti di un disegno quale che esso sia allora io perché ho citato questa frase di Darwin perché io la sento molto vicino a me quello che sto dicendo è che noi siamo al cospetto dell'antinomia tu hai citato Hegel prima in una maniera va bene insomma tu pensi quello di Hegel nel 1801 la prima delle dieci tesi che lui consegnò per l'abilitazione della filosofia diceva così contraddizio est regula veri non contraddizio falsi cioè la contraddizione è la regola della verità la non contraddizione del falso cosa vuol dire contraddizione in questo caso vuol dire esattamente la stessa cosa che Kant diceva antinomia è che questa frase di Darwin ci ha ci ha segnalato che lui stesso la viveva sto dicendo il fatto che noi noi veniamo dal mondo Paolo noi siamo un prodotto del mondo è il mondo è la natura che ci ha fatto se noi siamo portati ad avere questa intenzione a vedere dovunque intenzione questo e tu dici animismo l'animismo è una cosa seria questo cosa vuol dire è un dato che va è un dato che non va smontato a mio avviso ma va analizzato con con attenzione con criticità chi ha detto che il mondo non sia effettivamente un laboratorio dove c'è una grande intenzionalità che lavora che produce chi ha detto che la mente che è comparsa nel fenomeno umano sia il risultato del cieco caso e non sia effettivamente l'universo che prende coscienza in se stesso all'interno dell'uomo non sto parlando né di dio né di dei noi tu hai detto che siamo un frammento irrisorio di energia e di materia verissimo noi siamo un frammento irrisorio di energia e di materia ma dal punto di vista dell'elaborazione dell'informazione noi valiamo molto di più di molte sterminate galassie lassù e qua giù cioè intendo dire sotto sopra che dovunque esse siano la capacità di elaborazione di informazione che ha la mente umana è qualcosa di stupefacente allora uno può dire certo uno può dire tutto questo è avvenuto così è un caso è un caso e smontare 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 e non c'è nessun senso e beh benissimo lo puoi fare molti lo fanno e va bene adesso la scienza diciamo così grazie alla debolezza della religione grazie alla debolezza della filosofia oggi gli scienziati per la gran parte per una buona parte diciamo pure per la gran parte sono d'accordo consonanti con questo ma questo non dice niente sulla scienza questo dice della debolezza della religione oggi e della filosofia perché per secoli e secoli gli scienziati basti pensare ai grandi fondatori della scienza contemporanea non avevano per niente questo senso di ostilità nei confronti diciamo così delle discipline umanistiche della spiritualità pensate a Copernico a Keplero pensate a Galileo pensate a Newton a Mendel tutti i grandi scienziati grandi cose che erano abitati da un profondo senso di chiamiamolo così di religiosità il fatto che la nostra mente abbia intenzione abbia questo istinto a ritrovare intenzione è qualcosa da smontare o è qualcosa da prendere sul serio chi ne sa di più del segreto della vita gli aborigeni australiani o noi occidentali che giochiamo sui computer e che elaboriamo algoritmi e che chi ne sa di più del vero senso della vita io non lo so io non ho la tua presunzione di dire che gli animisti sono ignoranti magari sono proprio loro che vivono e sanno il vero senso profondo dell'esistenza di cosa significa passare in questo scenario del mondo ed essere veramente al cospetto onorare veramente la natura che ci ha portato all'esistenza perché naturalmente qui dipende che cosa significa l'esserci per te ha probabilmente un'assurdità l'esserci è un'assurdità la vita non ha nessun senso e va bene e vuoi riversare la tua assurdità e il tuo non vedere un senso sul tuo pensiero e prendi la scienza per costruire per dare forma a questo tuo sentimento vitale che è l'assurdo ma a partire dai dati scientifici è la contraddizione che emerge è l'antinomia che emerge io non sono un dogmatico che si pone di fronte ai dati scientifici e li utilizzo per dire allora Dio esiste sono lontanissimo da fare questo non ho mai fatto anche io ho smontato le prove tradizionali dell'esistenza di Dio io dico io dico semmai io tento semmai di onorare quello che per me è il fenomeno originario il vero e proprio mistero e lo dico proprio con consapevolezza nel senso mistero che viene dal verbo mio che vuol dire chiudere di occhio e di bocca e cioè e qual è per me il vero mistero è il darsi della vita in questo universo il darsi della vita e nessuno sa finora da dove viene la vita ma vado avanti il darsi della mente cioè della vita che sa che è consapevole e vado ancora avanti è il darsi della vita come cuore vita mente e cuore per me questo è il mistero da onorare e naturalmente lo so che da un punto di vista chiamiamolo scientifico chiamiamolo filosofico gli argomenti sono antinomici io sono un fedele kantiano da questo punto di vista siamo consegnati l'antinomia non ci sono elementi per dire che la vita doveva nascere argomenti stringenti sì De Duve li cita ma altri scienziati dicono di no non ci sono argomenti stringenti per il senso non ci sono argomenti per l'anima non ci sono argomenti stringenti ma per niente scusa neanche per l'amore esiste o non esiste l'amore ci sono persone che dicono di no esiste o non esiste la giustizia non ci sono argomenti per tutte le cose che ci danno forza per tutte le cose che ci danno vitalità per tutte le cose che infondono energia al nostro vivere non ci sono argomenti stringenti questo è però il filosofo cosa deve fare il filosofo deve fare quel lavoro che ha fatto Hegel tu puoi tu puoi naturalmente criticare la maniera con cui l'ha fatto ma il compito del filosofo da che mondo è mondo da che filosofia è filosofia è esattamente la ricerca dell'archè come ha cominciato a porsi questa domanda Talete e poi arrivando appunto ai nostri giorni con Heidegger e così via per questo uno guarda i diversi fenomeni che tu dici non hanno niente a che fare gli uni con gli altri li guardi e il filosofo invece li vede li classifica e per lo scienziato che per lo scienziato in quanto chimico sono una cosa per lo scienziato in quanto biologo sono una cosa per lo scienziato in quanto fisico sono una cosa e poi diversi tipi di biologia e poi diversi tipi di fisica e poi diversi tipi e in questa frammentazione tutto divide tutto divide con questa divisione analitica e per il filosofo invece c'è la ricerca dell'archè qual è la logica che tiene insieme questa cosa questa è la domanda filosofica che è anche all'origine delle religioni quando funzionano bene le religioni la domanda del senso complessivo dell'archè è una maniera per rispondere a questo è la maniera Dio qualcun altro dice essere qualcun altro dice assoluto qualcun altro dice spirito il grande spirito qualcun altro dice madre grande madre e sono tutte come dire tentativi naturalmente così di dimensioni diverse rispetto alla semplice ragione di dare un senso al nostro essere qua la semplice ragione ti inchioda l'antinomia l'antinomia io non sono d'accordo sul tuo voler prendere la scienza e dire e costruire sapere un sapere come dire che prende le domande decisive dell'umanità chi sono da dove vengo dove vado da dove viene la vita da dove viene il mondo e rispondere in maniera univoca questo è usare la scienza in maniera indebita a mio avviso e fare filosofia certo fai filosofia ma non puoi dire che è scienza questa cosa come ho detto va bene questo per quanto attiene alla risposta a te visto che anche tu hai risposto a me per quanto attiene alle domande che mi sono state poste dove sono io la fede chi ce l'ha e chi non ce l'ha beh guardi io sono convinta di una cosa signora che la fede ce l'hanno tutti poi uno la chiama fede religiosa l'altra la chiama fede filosofica l'altra la chiama fede nell'ateismo nella non esistenza di Dio ma la fede nel senso proprio di una convinzione non fondata una convinzione non fondata e questo è quello che contrassegna la mente umana al cospetto del mondo ben visto che non sappiamo da dove viene la vita non sappiamo che fine faremo uno può dire faremo moriremo certo ma chi chi dice che Schrödinger dice delle cose dice l'indistruttibilità dello spirito ad opera del tempo questo era un premio Nobel per la fisica che sosteneva queste cose che vi ho letto prima e quindi non lo sappiamo che fine facciamo gli animisti credono che ci sia un'anima e l'anima sopravviva in qualche modo io personalmente sono con loro ma naturalmente è una fede ma tutti anche chi nega che ci sia è una fede perché non c'è la prova provata dell'esistenza non esistenza dell'anima dell'esistenza non esistenza di Dio e così via poi l'altra cosa che mi è stata chiesta che non ho dato non ho parlato di fede e scienza vede signora io penso che non c'è la scienza e non c'è la fede e non c'è la religione ci sono uomini che fanno scienza e ci sono uomini che hanno una fede e che tentano e praticano la religione e le regioni e questo c'è questo c'è ci fossero scienziati ci fossero diversi scienziati qui a parlare con noi voi potreste vedere scienziati che tra loro vanno d'accordo scienziati che tra loro non vanno d'accordo anche partire proprio dal modello di fede e scienza e questo non è vero che dice della psicologia dei singoli e questo dice della modalità con cui i singoli fanno uso delle informazioni che la scienza dà non è appena un fatto di psicologia è proprio un fatto di filosofia in ogni caso è per quello quindi che io parlo dei singoli scienziati facendo degli esempi così e non della scienza in sé della religione in sé perché come ho detto è sempre particolare è sempre personale il lavoro di ciascuno poi le due domande sul dolore come conciliare il dolore il male l'armonia e che cosa dire dell'armonia qui io è da una vita che parlo di queste cose veramente è da una vita è dal 2002 quando ho cominciato a scrivere il dolore innocente a proposito di malattie rare sono stato proprio convocato da una da un'azienda farmaceutica che fa i farmaci per la malattie rare in un grande convegno che si è tenuto l'anno scorso quindi come dire sono i miei argomenti tutto ciò e ancora una volta che cosa ci dice il darsi del male ci dice l'antinomia nella quale siamo consegnati ma il male si può dare come male esattamente perché c'è un presupposto di bene che ti fa capire che il male è male cioè la patologia la patologia le malattie certo che ci sono e certo che non sono armonia in se stessa ma la patologia può essere classificata come tale sull'esistenza di una fisiologia sull'esistenza di una logica effettiva e poi è chiaro che l'idea che Dio possa come sostiene il catechismo della chiesa cattolica attualmente in vigore l'articolo 412 se ricordo bene che Dio possa vedere i mali e poi non impedirli per ottenere un bene maggiore è chiaro che questa modalità di pensare le cose all'insegna della teodicea più tradizionale è a mio avviso qualcosa di intollerabile e la critico in tutte le mie pubblicazioni cioè l'idea che veramente Dio possa dall'alto vedere perché in realtà non c'è nessun disegno che cala dall'alto non c'è nessuna armonia che cala dall'alto c'è una faticosa armonia che si va facendo in mezzo a tanti drammi in mezzo a tante tragedie in mezzo a distinzione di specie animali e vegetali certo che sì io parlo della mia visione del mondo all'insegna di ottimismo drammatico o se volete anche tragico e ogni tipo di giustificazione dall'alto di queste cose è inaccettabile e che però il darsi delle malattie riesca in qualche modo a non dico produrre un bene maggiore alla maniera che cosa è inaccettabile è inaccettabile che Dio dall'alto possa impedire il dolore degli innocenti questo è inaccettabile e lo faccia per un bene maggiore e poi come dire ottenga un bene maggiore ma che un bene maggiore ci sia da questo processo questo è un dato di fatto scusate noi perché siamo qui ma a seguito delle malattie genetiche che hanno cominciato a interessare i primi organismi che si sono evoluti perché se il primo protozoo si fosse evoluto sempre senza nessun tipo di mutazione saremmo ancora fermi al primo protozoo e invece appunto la vita evolve a seguito di mutazioni quindi hai obiettivamente un'armonia che sale dal basso e costruisce mente e costruisce complessità e costruisce cuore e costruisce civiltà e costruisce etica e costruisce politica e costruisce estetica questa è la storia del nostro pianeta non è una storia lineare non lo è non è lineare uno non può guardare la storia del nostro pianeta la storia della nostra natura e vedere qualcosa appunto di lineare che si compie ed è armonioso nel senso come chiamarlo primo del termine è tuttavia un disegno grandioso c'è lo dice anche Darwin a conclusione dell'origine delle specie armonia tra l'altro e concludo con questa annotazione filologica noi italiani la scriviamo senza H è ovvio scriviamo armonia ma pensate come la scrivevano i latini con l'H e gli inglesi con l'H e i francesi con l'H e poi che esocere ancora anche il tedesco se non l'ho già detto l'H e perché c'è l'H perché questa H esprime nelle lingue filologicamente più avvedute della nostra da questo punto di vista l'originario spirito aspro che la parola nella lingua greca originaria aveva quindi la parola più dolce in realtà non ha uno spirito dolce ma uno spirito aspro voglio dire la mente ha intuito la mente dei nostri padri greci ha intuito che l'armonia si ottiene semplicemente proprio dai contrasti e non lo dice Eraclito dalle cose più discordanti si ha la più bella armonia uno può credere o non credere questo è il mondo dentro il quale siamo capitati nascendo uno può scegliere di vivere servendo questa logica di aggregazione e di assemblaggio che è all'origine lo ripeto delle stelle è l'origine della terra è all'origine dell'evoluzione è all'origine del nostro esserci e non è questa fallacia questo è il compito del filosofo che vede il dispiegarsi delle cose e tenta di trovare l'archè qual è il principio io vedo che il principio della vita ma la vedo Paolo sai anche quando poi si vive concretamente giorno per giorno laddove si riesce a servire l'armonia in questa maniera anche polemica io penso che noi e contrariamente a quanto diceva quel signore noi adesso abbiamo fatto un momento anche così di armonia certo polemica polemica perché polemus lo diceva sempre Eraclito il padre di tutte le cose quindi anche dell'armonia ed è bello discutere con te perché va bene perché c'è questa vis polemica perché non c'è alcuna volontà di concordare c'è la volontà di tenere ferme le sue cose però che cosa è stato questo momento se non anche questo momento di armonia discordante un'armonia discordante ma tu hai probabilmente come dire chiarito esposto meglio le tue idee io ho tentato di chiarire di esporre meglio le mie e abbiamo servito il pensiero e abbiamo suscitato pensiero interrogazioni dibattiti ma questo vuol dire servire la relazione tu hai ascoltato me hai ascoltato me hai polemizzato con me io ho ascoltato te ho polemizzato con te ma la legge che ci ha tenuto insieme anche in questo momento è la legge della relazione per quanto una relazione dialettica certo ma è sempre la relazione e non può esserci nessun fenomeno che sia vero e costruttivo umanamente parlando e forse anche non solo umanamente che non sia all'insegna della relazione armoniosa grazie ancora a tutti grazie particolare di nuovo al palazzo ducale che ci ha ospitato e spero appuntamento all'anno prossimo grazie